Adesso ci apprestiamo alla prossima battaglia a Milano, per noi ogni fine settimana abbiamo detto una battaglia, dobbiamo racimolare punti, dobbiamo continuare a crederci come stiamo facendo. Noi abbiamo lavorato tanto sul nostro side out, quindi cercare di tenere, perché loro hanno una buona batteria di battitori, quindi lavorare su questo e poi cercare di tenere il ritmo alto e niente, sono partite difficili, ormai sono rimaste queste cinque partite difficilissime e quindi ogni partita va affrontata con lo spirito e con l'atteggiamento che abbiamo avuto con la Lube e quindi siamo pronti. È una squadra che sta bene, in forma, in salute, ha ottimi giocatori e quinta in classifica, deve mantenere il quinto posto, quindi sarà una partita difficile, ma noi, ripeto, l'affronteremo con questo atteggiamento come abbiamo fatto nelle ultime gare. In questo momento il nostro punto di forza è la voglia di crederci, la voglia di un gruppo che ha tanta voglia di dimostrare che non merita la classifica, di un gruppo che ha voglia di raggiungere la salvezza e di una squadra che farà di tutto per ottenerla.